Era stimato da tutti, era conosciuto da tutti, non solo in costiera amalfitana ma anche a Salerno e provincia. Vietri sul mare rende omaggio alla memoria del dottor Michele Siani con il primo memorial dedicato al medico vietrese. Appuntamento martedì 21 agosto nella suggestiva villa comunale di Vietri sul mare. Tutto all'insegna delle sue passioni, il teatro, la musica e il mare. Per tutti era il medico Michele Siani, per me era papà, era semplicemente papà. Quindi è bellissimo, è bellissimo che tutti lo ricordino, che io passeggio per le strade, mi riconoscano perché sono la fotocopia, come diceva lui, una nana malefica. Io mi emoziono ogni volta che mi raccontano mio padre in veste di medico perché ovviamente per me era l'uomo che si alzava la mattina e in ciabatta andava in bagno. Faceva un tripudio di odori tra sigaretta, lacca per i capelli, lui non viveva senza e a casa non c'è mai stato l'obbligo di chiudere le porte. Noi eravamo tutti così, era una famiglia e stavamo tutti insieme aperti, non si nascondeva nulla. E quindi per me è stato all'inizio molto difficile trovare un connubio tra queste due parti di mio padre e farle entrare in me perché da piccoli ovviamente vederlo sempre al lavoro, poco a casa faceva soffrire. Vietri sul mare, omaggio Michele Siani, su richiesta di cittadini, di tantissimi cittadini, siamo venuti in conto a quello che è un dovere da parte nostra, quello di dedicare il nostro anfiteatro comunale della villa a un nostro concittadino che è Michele Siani, che lo conoscono tutti a Vietri. Dobbiamo apprezzare per la sua professionalità, per la sua disponibilità, è nel cuore e nell'anima di tutti noi. È un giusto omaggio che l'amministrazione comunale e il comune, i cittadini vogliono regalargli, è quello dell'anfiteatro. È stata un'iniziativa partita da me quando dopo il funerale dell'anno scorso, subito subito dopo il funerale, mi è venuto in mente di organizzare un memorial su Michele Siani perché era una persona che se lo meritava. Tanti musicisti vietresi dove ho chiamato e il loro contributo è stato subito di dire non ci sono problemi, veniamo. Io voglio ringraziare tutti i musicisti che interverranno martedì 21, il gruppo Fulcro del dottor Michele Siani, il Saha Band, dove poi ci saranno i Medi Swing, i Musica Storia, i dottor Gogliani. Non c'è un solo cittadino che indirettamente e direttamente non deve qualcosa al dottor Michele Siani. Quindi noi come Prologo abbiamo subito fatto nostra la proposta di un comitato di organizzatori, di amici del dottor Siani nel patrocinare questo evento e portarlo al comune che in verità si è reso subito disponibile nelle persone del sindaco facendo funzioni ma di tutto l'intero assise comunale sia del consiglio che dell'opposizione.